Poi l'arroppo spero, ma per me che vado? Sì, sì. Qua. Che c'è la mia? Perché che bisogna andare sulla costena lì su? Ma questa roba, come dire, avete visto alcune ispezioni del paese e pian piano andiamo a fare un giro per vedere un pochettino le case. Provo, sì. Andiamo un attimo a vedere il cacimo. Con questa cacce, mi dà la sua vecchia cacce là. Cacimo? Sì, dopo che ha fatto con questa cacce, ci siamo fatta. Alla, chiederti, stai la sui, chiederti la sui. Caccia, queste parti. E' un po' più vecchia che è oppurevi? E' qua più vecchia? C'è qua rin? C'è qua? C'è qua? Sì, sì. Sì, sì... Sì. come on come on come on come on come on che aveva un paio che aveva un po' di popiatri. Ma il mio mio è il mio padre che aveva un po' di acqua, aveva un po' di acqua. E quando su aveva il lago, aveva un paio che aveva un paio di un paio. Sì, aveva un figlio di salle e aveva un po' di armi, aveva un paio, aveva un po' di acqua. E aveva un paio anche a fare un paio. manca con lui il padre, il nonno di un romano, come si chiamano il nome? Alberto? no, con il cavallo e la macchina di nuova è un romano? è un renso? è un renso, ecco il suo nonno è proprio il frate, venga lì il suo bisnono e il suo nome ah e il frate di un paese? beh, perché era un altro fratello che anche con lui aveva un fratello, lavorava anche lì da fratello ma dopo, lui è morto, ormai è una mia pellevore da fratello il suo padre? il suo padre aveva un fratello insomma è bello che una volta la gente si vengava con il studio di quel paese ma per vedere che c'è da lì, c'è da lì, c'è da mio, da che? ma per vedere che c'è da ma per vedere che c'è da ma per vedere che c'è da lì perché è un'altra parte che si vengono e che c'è da lì, c'è da lì, c'è da lì in te più, c'è da lì, c'è da lì qu'è da lì, c'è da un'altra parte, c'è da un'altra parte e va bene come lì come c'è da lì, c'è da un'altra parte ma adesso dovrei fare un toco la fotografia e da qua si vede bene l'abitato di Piaudio, non è buono ma è una giornata molto ventosa questa è l'abitato di Pietra Nera, questa è la cascina che avevo tempo fa, ricordate l'incendio nelle grilli e dove abbiamo fatto anche servizio il telegiornale questo è l'abitato di Pietra Nera, vediamo che qui è ancora molto diffuso l'allevamento del pollame e che chiaramente dà il frutto del frutto, soprattutto la possibilità di accogliere le uova quindi sono un bene ancora della nostra agricoltura, dell'agricoltura nostrana e poi un bel primo piano di Rostarola come possiamo vedere direttamente da te qui si vede che il paese è grande quindi una volta è stato molto popolato e adesso, adesso che venia a fare un camuforato di persone tra qui e Carana, per negri e un camion e una volta che sarebbe stato 100 persone qui perché ha cucarini, ma che ho avuto? e adesso è insuerto che sarebbe più di meno che fai via si, si, si mi fanno parlare di gente, magari la città, magari la incodiva e tutti i San Quarcusa è uguale, sempre fa la mia maniera su un paese di là perché qui è qua che diceva prima cosa che era magari una famiglia? si, che è sui tre strati che è molto casa, qui era una famiglia grossa qui era una caleccia e sui ne erano due famigliate ma piuttosto grosse dopo la del là qua una volta a quel comune poi regolavate? era giù a Brugnello? a Confiente a Confiente a me? non ne crederebbe niente se non era giù del mio però è stato Ormei dove è? Ormei era Pianello era Pianello aveva quella qua detto che Dracosta e Cucureus li gana qua e lì ero che viveva Ormei allora che era Sandic aveva un nome di là e che aveva Sandic portavo con me Rapiev Ormei l'estu ah c'era la fede vacante? vacante nel senso che viaggiava? dove andavo, dove aveva Sandic e c'erano con me era un po' di comune ma mi portava le carte ancora ora adesso vediamo te che leggi che c'è adesso allora perché ero segretario a Confiente un fevo segretario ufficiale a posta un fevo piccolissimo io stavo qui a posta lì sta accanto a me e subito a Confiente quindi ho piaciuto lì che c'erano eh? si mi ha fatto quasi il mio primo non ha cammino anche qui a Covecchia lì a Covecchia 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 sì si un me ne ho fatta quasi di tutto il mio anche a Me tu vediamo come fai io vabbè non so io ne ho trovato tante gente io ho trovato a farmi se e ci sono assolutamente dei campi che c'erano qua di quello che dava la terra qua Non, ma sono un po' di più. Non è un po' di più, ma sono un po' di più, un po' di più. Mi sono andata, mi hanno detto che la mia un po' di più, ma è un po' di più. Si sono andata, non è andata. Non è tanto. Oggi tu adesso non puoi capire. Non puoi capire. È un perfetto medio grande, non? È, sì che. È che non mi sono a capire. 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 È un po' di più grande. e suuringam per faciniti e che è piaciuta che su, fatta e la cura l'olestà fatta quale? che vuole? che vuole la cura l'olestà ma api rechia la cura l'olestà ma api rechia l'olestà ma anche se ne vedevano ma le vecchia lì e se ne vedevano che la cura lì anche se ne vedevano le vecchia lì le vecchia lì ma le vecchia lì ma questo è un paio che non so che vuole che vuole? che vuole l'olestà ma che vuole la cura lì ma tutto il 100 euro c'era di nome diversi? se io ero tutto il primo io ero prima o secondo io ero qui, io ero là la mia comodazione? che ho detto che ho detto che ho detto là quando io ho detto che ho detto che ho detto no noi siamo qui al chien d'Espitola D'Uri tu no per fare il caucatario lui sta chiuscendo a dire però quando è qui al D'Uri che c'è la durina non va a triggere. Allora, c'è sempre un paese, non? Ah, sì. Da un paese, quando c'è una fortuna, c'è qualche parte, c'è un paese, e c'è un po' la seconda, la prima direzione. E' poca differenza, perché c'è qualcosa o meno. C'è un paese, qui vengono les vengono, è proprio un paese, a questo si è benissimo. E vedrai la colpa di paese, a loro non vengono, a loro non vengono, i basi, non vengono, e sono di lungo. Di una nuova frontiera, ah sì, per me piace. E' l'oratorio? E' l'oratorio? L'oratorio? Ma è sempre tu o non doveva raccontare? È sempre tu. Per un mese, ma sono anche prima di parlare, che poi sono nati il diritto di Casena, che mi chiede per l'erba. Ho perso il diritto di cavallo. Sì. Dopo il gruppo dei Paoli, loro usano la fatta d'aglio, io la trovavo in America, con l'arrivamento dei Paoli, e l'oratorio di Griglia arriva. E loro l'ho fatto a metà posto, e gli altri dicono alla messa, e vengono la messa. Ma... mi ha recuperato. Riturare? Ma che l'ho vago in Italia, e le cagate in Italia la fatta di questa. Non riesce a metà? È. Non riesce, ma che abbiamo fatto anche di un mese per lungo, che invece lo riesco. Il suo lavoro è un po' di vero, è un po' di vero, è un po' di vero. è così non ci sono mai il ragazzo il ragazzo e tutto ci sono fatto non ci sono più che sono fatto un sacco e ora che ha fatto tutto un sacco due seri che mi ha fatto un po' diverso che non ci sono un sacco ma mia io ero un'amica piccato, non è bello, io sono piccato, con l'arenaria, lì cazzo, se io lavoravo mi piccato, non è lunga, non è quello che è lungo in cazzo quindi riuscite a far vedere allora? e riuscite sempre a me, non ha cazzato, sempre a cazzo niente, fina batteria, è fina batteria, è fina permissione, grazie, mi puoi prendere il fuoco al paese aspetta, anzi, vai se mi siete disponibili te, lo nostro è il bellissimo e salta l'oppo